salve ragazzi benvenuti un'altra volta dai un altro video veloce oggi spiegheremo perché mi hanno fatto anche una domanda come poter cambiare il colore del grafico dentro di ithor allora vi faccio il video velocissimo prima di tutto cerchiamo l'attivo che vogliamo vedere per esempio andiamo all sp500 schiacciamo su chart o grafico dipendendo dalla lingua che ce l'avete lo facciamo bello grande che si veda nel tutto lo schermo e poi andiamo qua nella configurazione possiamo scegliere che tipo di luce vogliamo vedere il nostro grafico che tipo di dem che tipo di non so come dice in italiano vabbè e ci abbiamo la versione light che è quella che abbiamo messo adesso o la versione dark che è quella che piace vedere a me così già ce l'abbiamo configurato in nero se vogliamo vederlo nel pro chart è esattamente lo stesso siamo nel pro chart schiacciamo qua e poi c'è scritto nel generale ci abbiamo o light o dark basta quello è l'unico da fare o bianco o nero niente facilissimo come avete visto è molto facile da fare spero vi sia piaciuto la risposta se avete ancora dubbi commentatemi sotto e vi farò un altro video ancora non c'è problema ricordate di darle al like commentare e suscrivervi dai ciao ragazzi